24 ore alla sfida dello Juventus Stadium, il Pescara in arrivo qui all'aeroporto di Torino, Caselle, per sfidare i campioni d'Italia della Juventus. Ad aspettare i calciatori presenti in aeroporto anche dei tifosi abruzzesi che, nonostante il momento negativo, hanno cercato di caricare la squadra con il loro entusiasmo. La truppa bianca-azzurra è apparsa concentrata verso l'obiettivo. concedendosi, però, le classiche foto di rito con gli appassionati presenti. Meno 24 ore alla partita più difficile di questo inizio di stagione, ma, al di là del risultato, ad aver già vinto sono i supporter del Delfino con la loro passione sfrenata. Noi saremo sempre accanto a te, chi che morte non ci separerà, in qualunque stadio giocherà, noi non ti lasceremo mai. Noi saremo sempre accanto a te, chi che morte non ci separerà, noi non ci separerà, noi non ci separerà, noi non ci separerà. Noi saremo sempre accanto a te, chi che morte non ci separerà, noi non ci separerà.